Musica Chi è che prende il caffè? Io! Mangia il caffè 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8 A un certo punto stavamo parlando di una tipa E questa tipa oggi non fa Che è successo? E lo fa, che di una volta Come? 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 Allora è un rafforzativo E' tipo a noi quando uno parla e te lo ascolti E per... Ah, si Allora fanno Tipo mentre eravamo lì a meno 20 A fare questo sopralluogo Io gli ho fatto no, ma perché sapete Noi veniamo qui non perché Ci fa tanto piacere Sì, la Svezia e ciò Però in realtà veniamo qui perché in Italia non si può E questi hanno fatto una faccia inorridita Tipo Ah no E come non potete Attacca Non ci potevano credere E è vera questa cosa Cioè io lì mi sono sentita E' brutto dire ti senti normale Però è vero che quando incontri delle persone che non conosci Ti riservi un po' Io mi riservo Non dico subito Sei fidanzata Io a volte dico no Oppure sì Però non dico con chi In quel caso lì Cioè non è una questione Da affrontare capito? Te ti vuoi sposare Ti sposi con una donna con un'alce O con un uomo E' uguale Cioè loro sposano tutti Non gli fa differenza E la percepisci forte questa cosa La testa quella lì Si Ma il mio La testa quella lì La testa quella lì La testa quella lì La testa quella lì